Siamo qui con il giocatore Gianluca Gullà, attaccante al Palermiti. Gianluca, questo derby è stato corretto oggi, vero? Sì, è un bel derby, speriamo che la vostra squadra riesce a raggiungere questo obiettivo di salire in seconda categoria, dato che è una società amica e sono tutti amici. Come hai visto il Palermiti oggi? Si era giocato alla pari, era un derby ed era sentito? Non meritavamo la sconfitta, speriamo che questo sia un inizio per il prossimo anno, quest'anno è andata così, cerchiamo di chiudere in bellezza il campionato. Tu da ex calciatore del Gasperina, ancora i colori li ami? Siete tutti amici, ho un bel ricordo di voi, spero altrettanto, vediamo. Siamo con il capitano del Gasperina, qua a Palermiti, con Giovanni Truglia. Giovanni, oggi è stato un derby combattuto? Sì, è stato un derby difficile perché i derby sono sempre partiti a parte e devo fare i complimenti ai miei avversari e ai miei compagni che abbiamo davvero tirato fuori il carattere che serviva per battere il Palermiti oggi. Dopo questa vittoria del Gasperina, cosa ne pensi di questa vittoria? Penso che possiamo ancora lottare per sia vincere il campionato, sia andare in seconda, salire in seconda, serve l'aiuto di tutti, ogni partita è a sé, dobbiamo vincerle tutte. Ok, da Palermiti è tutto, a te studio. Dopo la partita Palermiti e Gasperina si festeggiano insieme, questo è lo sport ragazzi. Dopo la partita Palermiti e Gasperina, questo è lo sport. Si festeggia insieme con i giocatori, da Palermiti è tutto.